E' stata la Sala Nobile di Palazzo Mauri a fare da cornice alla giornata celebrativa del premio Spoleto Festival Art promosso dall'omonima associazione guidata dalla professore Luca Filipponi, protagonista di molteplici iniziative culturali nella città dei due mondi. Come ogni anno la rassegna artistica ha puntato a mettere in evidenza con un vero e proprio progetto comunicativo artisti di diverse discipline e dell'arte contemporanea con il patrocinio e il sostegno delle più importanti accademie internazionali. Grande interesse è stato espresso soprattutto dai partner extraeuropei, a partire dalle accademie cinesi rappresentate dal professor Sandro Trotti, così come il mondo arabo per il quale rappresenta Eraldo Vinci Guerra che ha sottolineato nell'occasione come proprio il mondo arabo moderato a partire dall'Iran ma anche Egitto, Libia e Marocco esprima anche a livello culturale tanta voglia di Italia e di Europa. Proprio da questa contaminazione culturale è nato un confronto con le numerose istituzioni presenti, regioni, comuni e agenzie pubbliche. Sono stati presenti alla premiazione Federico Mattia Papi, direttore di Casa Menotti, musica che ha annunciato il concerto dell'Enfant Prodige francese della musica classica Philippe Attà. Il maestro Silvio Amato, direttore di Costiera Arte, che ha annunciato la prossima mostra antologica a Spoleto del famoso artista olandese Tom Prett, ma anche Angelo Sagnelli, direttore artistico di Spoleto Art Festival Letteratura. Ad assegnare particolari riconoscimenti sono stati chiamati il presidente del Centro Studi SNARP Francesco Petrino, consigliere diplomatica e accademico di nota fama, Angelo Matteo Socci, critico, collezionista e artista e Degno Calabria, autore del manifesto di Spoleto Art Festival 2016. L'iniziativa di Palazzo Mauri ha rappresentato anche una nuova tappa nel percorso di collaborazione della Rassegna con Amelia Festival e il Comune di Amelia, con la presenza di Riccardo Romagnoli, presidente della Rassegna Merina, nonché magistrato, già capo di gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia. Tra gli addetti ai lavori della Commissione anche il presidente Sandro Bini, direttore marketing e segretario generale del premio Paola Biadetti, Carla Mazzoni della Galleria I Preferiti di Roma, consiglieri diplomatici ed esponenti di vari paesi hanno poi accolto i rappresentanti di vari comuni, come Magliori, provincia di Salerno, Sulmona, L'Aquila e altri comuni abruzzesi che sono stati guidati da Umberto Gian Maria, presidente della Fondazione Tau, oltre alle associazioni sempre dall'Abruzzo, legate anche alla realtà del premio Sulmona, rappresentato da Raffaele Gian Antonio e Nunzio di Placido. Alcuni trofei sono stati eseguiti dall'artista Giuliano Ottaviani, direttore della Biennale di Spoleto e di Eclettica, che sta collaborando attivamente con il professor Luca Filipponi, che al termine dell'incontro ha espresso motivi di soddisfazione per l'ulteriore crescita del progetto culturale. Il premio Spoleto Art Festival 2016, una grande kermesse internazionale nata dai gemellaggi di tantissime accademie del mondo dell'arte e della cultura in tutto il mondo, dalla Cina all'Australia all'America, passando anche per i paesi arabi, soprattutto un grande progetto di comunicazione. Quindi questo premio ha richiamato l'attenzione di tanti media, di tanti critici, di tanti galleristi, di tutti gli attori della comunicazione, per buttare un po' il sasso nello stagno della cultura e dell'arte e per creare maggiore attenzione intorno all'arte contemporanea. Perché l'arte contemporanea è un po' vissuta forse in maniera troppo esclusiva nelle grandi gallerie, nei salotti buoni. Noi come obiettivo, come premio, come progetto di comunicazione ci proponiamo di allargare questo segmento, di renderlo più internazionale e di far sì che questa città, la città di Spoleto, sia sempre di più, come l'aveva definita in una famosa intervista nel New York Times il maestro Giancarlo Menotti negli anni 60, una vera e propria città teatro nella quale noi dobbiamo anzi avere la forza di poter portare sia gli attori, che in questo caso sono tutti gli artisti, ma anche tutti gli spettatori, che sono tutti gli altri attori attivi della comunicazione dell'arte contemporanea. Dall'unione di tutti questi segmenti in una chiave sempre innovativa dobbiamo poi trovare sempre ogni anno e cercare una sorta di magia, una sorta di fil rouge, un qualcosa che riesca ad attrarre curiosi persone, giornalisti intorno sempre all'arte contemporanea, a questo grande contenitore. Ovviamente ogni anno come una grande testata giornalistica dobbiamo in qualche modo stare sul pezzo. Quest'anno abbiamo trovato questo fil rouge attraverso le accademie e il mondo dei paesi arabi. Abbiamo fatto un fortissimo gemellaggio per esempio con lo Stato dell'Iran, che da poco ha firmato dei trattati molto importanti di cooperazione con l'Europa e con l'Italia, quindi e come ha detto proprio giustamente in via giornalistica anche il Premier Renzi, il nostro petrolio dovrà essere senz'altro la cultura. Noi abbiamo questo petrolio e dobbiamo sfruttarlo al meglio e renderlo sempre di più fruibile e rendere i nostri territori sempre di più attrattivi. Questo lo possiamo fare sicuramente con forza solamente se utilizziamo veicoli come l'arte. Grazie a tutti.